Nella città di San Francesco, inventore del presepe, in questo periodo le rievocazioni della natività costituiscono un ricco e suggestivo itinerario cittadino. Per le vie del centro e nelle frazioni ogni nicchia, vetrina o chiesa ospita un presepe. La maggior parte di queste rappresentazioni partecipano ad un concorso che tutti gli anni premia la miglior opera amatoriale. Da non perdere la mostra a tutti i presepi del mondo alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Nel corso degli anni, gente da tutti i paesi del mondo ha donato il proprio presepe ai frati di Assisi e nel periodo di Natale la Porziuncola mostra le migliori opere all'interno del percorso del Roseto e nel Chiostro del Convento. Altra meraviglia è il presepe monumentale nel prato della Basilica di San Francesco ad Assisi con personaggi in terracotta a grandezza naturale, l'enorme abete natalizio all'ingresso della Basilica Inferiore e le opere artistiche che ogni anno la regione italiana, prescelta per onorare il patrono d'Italia, dona al convento. Ogni frazione assisana partecipa al Natale con iniziative di ogni genere, dalle tradizionali come il presepe del Sacro Cuttugurio a quelle più particolari come la discesa della Befana Volante dalla cima della chiesa di Rivotorto. Dulcis in fundo i caratteristici e tradizionali presepi viventi, la maggior parte dei quali sono vere e proprie rappresentazioni teatrali realizzate in modo amatoriale dagli abitanti di frazioni anticamente sedi di castelli medievali del contado Assisano. Armenzano, Petrignano e San Gregorio con i loro vicoli tortuosi fanno da scenografia ideale a momenti di vita quotidiana e scene della natività. Quest'anno, come di consueto, il presepe vivente di Armenzano si svolgerà a cavallo tra Natale e l'Epifania a 26-29 dicembre e 1 gennaio dalle 16.30 alle 19.00. A San Gregorio, dopo le rappresentazioni natalizie di Santo Stefano, il presepe torna domenica 1 gennaio dalle 7.30 alle 19.30 ed il 6 gennaio nello stesso orario con la sfilata conclusiva dei Re Magi e di tutti i figuranti.